Ciao, oggi vi propongo la pizza misto semola. Si tratta di un impasto per pizze con semola di grano duro e metà semola di grano tenero. 0,0 oppure se volete potete utilizzare grano tipo 0. È diventato uno dei miei impasti preferiti. Vi lascio qui sotto l'info box tutti gli ingredienti. Prendete una ciotola, versate mezzo cubetto di lievito di birra, birra fresco, poi dovete versare due cucchiai di zucchero bianco e 500 ml di acqua naturale. Scegliete bene il lievito, versate 400 g di semola rimacinata di grano duro già setacciata, amalgamate bene il tutto. Una volta che avete amalgamato bene la semola, versate un cucchiaino di sale abbondante, amalgamate bene il cucchiaino di sale e poi versate 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Una volta che avete amalgamato benissimo anche l'olio extravergine di oliva, solo a questo punto, potete versare poco per volta 400 g di farina 0,0 di grano tenero. Amalgamate bene il vostro composto, poi lavorate il vostro composto per circa 2-3 minuti con le mani all'interno della ciotola e poi potete passare su una spianatoia quando ottenete un composto ben omogeneo. Lo dovete lavorare per circa 8-10 minuti sulla vostra spianatoia. Mi raccomando, eseguite questi movimenti, quelli che vedete in video. Vi invito nel frattempo a scrivervi qui su YouTube, mi raccomando, e attivate la campanella, così ogni volta che pubblico un video vi arriva subito la notifica, che è importante. Non perderete così neanche un video, anche perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. Guardate come impastiamo bene il nostro impasto, che è diventato super morbido. Mettiamo lì di sopra una ciotola e facciamo riposare per 30 minuti il nostro impasto. 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva nella ciotola, dopo 30 minuti mettiamo all'interno del nostro impasto. Mi raccomando, oliate bene il vostro impasto con l'olio all'interno della ciotola. Prima vi faccio vedere la morbidezza. Il nostro impasto si è proprio rilassato. Eseguite questi movimenti e poi mettete l'impasto all'interno della ciotola. Coprite con la pellicola, poi con un canovaccio e mettete in forno spendo con luce accesa per 4 ore. Per far lievitare meglio il nostro impasto eseguite 4-5 taglietti, mi raccomando, prima di ricoprirla con la pellicola. Bene, favorita una bella lievitazione di 4 ore, se volete anche 4 ore e mezzo va bene. Riprendete il vostro impasto e come vedete è lievitato tantissimo ovviamente. Prendete la teglia con carta forno, setacciate sopra la farina di semola di grano duro, dividete l'impasto in due metà come vedete che vi serviranno per realizzare due pizze. Mettete l'impasto sulla teglia, allargate l'impasto in questo modo, poi girate l'impasto dall'altro lato e continuate ad allargare l'impasto fino a ricoprire la superficie della vostra teglia. Coprite con un canovaccio pulito e fate riposare per circa 40-50 minuti il vostro impasto perché deve ancora riposare. Bene, a questo punto potete preparare il condimento con pasta di pomodoro, olio, origono, sale, zucchero, fate un po' voi, dovete personalizzare la vostra pasta di pomodoro. Io ho messo anche il pepe nero macinato. Bene, trascosti 40 minuti, massaggiate il vostro impasto con le dita come faccio, come vedete è super super morbido e avendo cura, mi raccomando, dovete lasciare i bordi, così avete un bordo croccante, non massaggiate i bordi. Mettete la pasta di pomodoro, infornate con un forno prediscaldato a 225 gradi per 15 minuti e dopo 15 minuti mettete il formaggio e la mozzarella sopra, infornate giusto il tempo di sciogliere il formaggio e la vostra pizza è pronta per essere gustata. Mi raccomando, infornate nell'ultimo ripiano più basso del forno, partendo dal basso e poi per sciogliere la mozzarella la mettete al centro. La mozzarella ovviamente si scioglie in pochissimi secondi, quindi guardate, mi raccomando, non fate guasciare di più la vostra pizza. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile, mi raccomando, vi aspetto qui su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi aspetto anche su Facebook, su Instagram come Ricette Golose di Cartesia e anche su TikTok. Vi mando un bacione grande grande, alla prossima. Ciao, baci da Cartesia!